L'Inter ha vinto a San Siro ed è volata a più 4, doppietta di Lautaro e Lukaku 5 derby in gol, una coppia da 30 reti. Andanovic ha reso vani i tentativi di Ibra. Ci sono ancora 45 punti in palio, l'Inter senza coppe può resistere in detta. E che ruolo reciterà il Milan? Roma deludente, bloccata da un Benevento in 10. La Juve col Crotone può raggiungere il terzo posto. Vincono Lazio e Atalanta su Sampo e Napoli. Ora giocheranno in Champions contro Bayern e Real Madrid. Ozyman trauma cranico. In ripresa la Fiorentina contro lo Spezia. Blaovic ancora in gol. In coda la vittoria del Torino a Cagliari ha ammesso in crisi di Francesco, sostituito da semplici. Il Parma, a due punti in sette partite, dal 2-0 al 2-2 con l'Udinese. I pareggi del Genova col Verona e quello tra Sassuolo e Bologna hanno cambiato poco. Lukaku a quota 17 gol.